Amici di Automobile.it, il test drive di oggi ci farà conoscere i segreti della Renault Clio 2020 apparentemente non troppo diversa dal precedente modello ma che invece zitta un'altra Clio Se è vero che squadra che vince non si cambia, i tecnici della Renault devono aver applicato proprio questo proverbio alla nuova Renault Clio 2020 Un modello che sembra molto simile al precedente ma che invece nasconde una miriade di novità che adesso andiamo a scoprire Di fatto è una Renault Clio quinta generazione completamente differente non tanto nel look dell'esterno che comunque è stato rinnovato, è stato reso più piantato sulla strada come proprio impatto estetico quanto per la qualità percepita ad esempio degli interni L'interno è stato completamente ridisegnato, abbiamo un grande schermo touchscreen che può essere da 7 o 9 pollici in base al tipo di allestimento che avremo scelto e poi c'è tanta qualità per quanto riguarda la scelta dei materiali Ecco, quello che prima sulla vecchia Clio prestava un po' il fianco adesso sembra un problema definitivamente risolto Da scegliere nella lista degli optional non mancano quindi sensori per tenere sotto controllo l'angolo cieco degli spicchietti, retrovisori e per le versioni con cambio automatico c'è addirittura la guida autonoma di livello 2 che regola la velocità e la distanza dagli altri veicoli mantenendo l'auto sempre al centro della carreggiata Molto interessante è poi la dotazione di serie che chiaramente è variabile da allestimento ad allestimento ma che comprende gadget che siamo abituati a trovare anche su modelli di segmento superiore ad esempio il sistema di ricarica per gli smartphone wireless oppure proprio il navigatore satellitare Ma quello che colpisce maggiormente sono gli accessori dedicati all'assistenza alla guida e alla sicurezza Su tutte le crie, indipendentemente dall'allestimento, troveremo quindi ad esempio il riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti con tanto di frenata automatica anche di notte e poi il cruise control con tanto di sistema per il mantenimento della vettura al centro della corsia A muoverci ci pensa un motore diesel da un litro e mezzo di cilindrata per 115 cavalli di potenza La coppia è di 260 Nm, il che ci consente di avere anche delle prestazioni di tutto rispetto I 200 km di velocità massima non sono raggiunti per un'inezia mentre i consumi parlano di 3,6 litri di gasolio bruciati ogni 100 km Molto buona anche l'abitabilità anche se chi sale sui sedili posteriori dovrà un po' abbassare la testa per accedere all'abitacolo per via proprio della forma delle portiere Un miracolo invece è quello che è stato fatto dagli ingegneri di casa Renault per quanto riguarda la capacità di carico che è stata portata addirittura a 391 litri a fronte dei 300 del precedente modello che pongono questa Renault Clio tra le vetture più capienti del proprio segmento Per quanto riguarda invece il capitolo dell'usato ma anche dell'uovo del chilometro zero o del noleggio sul sito di automobili.it potreste trovare relativamente a Renault Clio oltre 1660 annunce E voi cosa ne pensate della nuova Renault Clio 2020? Ricordatevi di scriverlo nei commenti, di seguire la pagina Facebook ed iscrivervi al canale YouTube di Automobile.it Alla prossima! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti!